l'accendino è diventato un pezzo di antiquariato non si accende si accende poco che niente benissimo non ci pensiamo più perchè ora è uscito il nuovo congegno dell'ingegneria atomica nucleare supersonia l'accendino non so come si chiama comunque come potete vedere una fiamma fantastica se lo piegate aspettate se lo piegate la fiamma non si piega è molto difficile scottarsi questi sono dei veri accendini altro che quella roba lì questi accendini fornono la storia quella roba lì è roba d'antiguariato manco quella roba da buttare tipo guardiamolo guardate guardate la semplicità di questi accendini magia capito? questi accendini sono gli accendini che gioca al mondo questi accendini invece fanno la storia ci sono lì allora capito